I sindaci dell'Unione dei Comuni della Valmalenco, seduti attorno a un tavolo in prefettura, si va verso la ricomposizione della frattura apertasi con l'uscita di Caspoggio, votata a maggioranza del Consiglio Comunale, indisponibile ad innalzare dal 21 al 25% la propria quota di contributo al bilancio dell'Unione, giudicando la modifica troppo onerosa per le proprie casse. Dopo aver incontrato separatamente i tre primi cittadini di Caspoggio, Lanzade e Chiesa in Valmalenco, nell'incontro collettivo di oggi il prefetto Salvatore Pasquariello è riuscito a ricomporre il dissidio, proponendo una soluzione condivisa, con riserva, da tutti e tre i comuni. Si tornerà dunque alle quote originarie, Chiesa 50, Lanzade e Caspoggio 25 a testa. I tre sindaci hanno condiviso la mia proposta, che consiste nel rimodulare le quote di partecipazione all'Unione, ritornando alle quote di partenza, quelle originarie, ma graduandole nel tempo, e cioè a partire da quest'anno 2020 fino al 2022 ci sarà una progressione nella rimodulazione stessa. I sindaci sono d'accordo nel senso che hanno condiviso l'impostazione e per rispetto ai rispettivi gruppi consigliari si sono riservati di parlarne con loro e si sono riservati altresì di far valutare ai rispettivi responsabili dei servizi finanziari la fattibilità di questa proposta. Malgrado alcune distanze ed opinioni divergenti, si legge nella nota diramata da Palazzo del Governo, lo spirito collaborativo e l'opera di mediazione del Prefetto, caratterizzata da assoluta terzietà, hanno fatto imboccare la strada giusta. Ci rivedremo il 24, in modo che se il percorso ha riscontrato un esito positivo, si potrà sottoscrivere l'accordo così come è stato impostato questa mattina.